Io voto dai alla manovra, tanto vuole capire da... Io do... Un pagella, cosa vuole dare? Un 6 io lo do. Un 6 io lo dai. Io lo do. E tu? 10 se tutto insieme, se no no. Cioè cosa vuol dire tutto insieme? Se no senza voto. Cioè se non è finto i 20 miliardi? No, perché dopo è come è stato costruito il decreto di stabilità di Letta, no? Venerdì era meraviglioso, lunedì cominciava a tentennare con gli aumentamenti, martedì era un disastro. Siccome erano slide non provvedimenti, vediamo se è arrivato qui. E appunto, quindi quanti pezzi di questi lasciamo per strada? Se è tutto insieme funziona, per carità, è un primo passo. Tu vedi dei nemici appostati che gli sparano, quindi queste slide... Questo senz'altro. Chi è il nemico numero uno di Renzi? Il nemico numero uno è tutto ciò che... Sono i parenti suoi, dì la verità. Sono tutti quelli che vengono sfidati. È la camusso, dai. Sono tutti quelli che sono sfidati, ecco perché a me non piace questa logica della sfida, perché non porta in nessun posto. La politica serve per discutere... Certo, alla fine qualcuno deve decidere, certamente, ma ci deve emergere chi è d'accordo e chi non è d'accordo. Questa storia non fa emergere niente, fa emergere solamente che si fanno gli strattoni. Alla lunga porterà dei guai, io lo so già da adesso. Questa storia non fa emergere... Questa storia non fa emergere... Questa storia non fa emergere...